Sempre più comuni anche abruzzesi stanno posizionando i T-RED, gli ormai noti dispositivi utilizzati nei pressi di incroci regolati da semafori per rilevare e multare i conducenti che commettono un'infrazione, sì. Ma la filta CGL ai medesimi comuni pone un problema. Ci si sofferma in particolare sulla installazione obbligatoria dei dispositivi countdown o conto alla rovescia in intersezioni in ambito urbano ed extraurbano in cui appunto sono posizionati i sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso. Anche e soprattutto per garantire, è stato detto, la sicurezza dei mezzi pubblici pesanti e dirgli automobilisti stessi. Il segretario filta CGL Abruzzo e Molise, Aurelio Di Eugenio, precisa. Noi vogliamo attenzionare il problema che sta veramente diventando un'ossessione per la platea che rappresentiamo, gli autisti di autobus e gli autisti di mezzi pesanti. Il problema che vogliamo attenzionare è la durata del giallo che precede il rosso e la mancanza del countdown, quel dispositivo che consentirebbe di visualizzare tutte le fasi semaforiche presenti al semaforo intelligente. In countdown di questo tipo non sono presenti al momento? Non sono presenti, tra l'altro c'è un decreto ministeriale approvato a settembre che stabilisce in alcune situazioni l'obbligatorietà per i comuni di installare tale dispositivo nei cosiddetti T-RED, questi semafori intelligenti. Una situazione sempre più difficile per la categoria, dice Di Eugenio. Un lavoratore che si alza la mattina per riportare a casa 50 euro non può lavorare in tranquillità e rischiare invece di pagare una multa ogni giorno, ma tra le altre cose c'è la sospensione della patente se la stessa infrazione viene ripetuta per due volte nell'arco di due anni. Noi non siamo contrari alla sicurezza, dice Patrizio Gobeo, segretario Filt Cigelle Chieti Pescara, ma... Vorremmo però fare in modo che i conducenti di autobus e di camion siano messi nelle condizioni di poter ben regolamentare il loro flusso attraverso un apparecchio che è il countdown che permette loro di regolarsi in un tempo migliore se impegnare l'incrocio o fermarsi precedentemente, perché con un mezzo pesante, a differenza di una vettura, la caratteristica della frenata è ben diversa soprattutto quando si va a pieno carico.